Il gruppo Cassa Depositi e Prestiti ha avviato, ha intrapreso un percorso di forte cambiamento che ha coinvolto circa il 90% dei propri sistemi informativi. Vediamo un attimo di che cosa si tratta. La Cassa Depositi e Prestiti ha a causa anche della forte espansione perché è diventato un gruppo e dei forti cambiamenti che sono sotto gli occhi di tutti, visto che siamo sui giornali tutti i giorni, ha in questo momento una forte trasformazione nell'ambito dei sistemi ICT. Questi cambiamenti che sono tutto rincorso nel prossimo triennio coinvolgeranno il 90% dei sistemi. E come ho illustrato durante il mio speech, abbiamo definito dei nuovi principi su cui basare il futuro, se vuoi, tecnologico di Cassa Depositi e Prestiti. Principi nei quali c'è l'open source. Uno di questi è appunto l'adozione delle tecnologie open source e in questo caso in parte di Red Hat. In visione, diciamo, strategicamente per noi l'open source è un tema importantissimo in questo momento perché è centrale nella nostra strategia, perché ci permette, diciamo, fra virgolette di evitare un vendor lock-in, di avere buoni time to market, di avere una riduzione dei costi ed è quella flessibilità, garantirci quella flessibilità che oggi ci serve. Quali sono gli altri tre? Gli altri tre sono discorsi più legati all'architettura di per sé, quindi la modularità, legato quindi a come si costruisce un servizio, il discorso del cloud, quindi che le soluzioni future debbano essere cloud ready quantomeno, e il discorso sulla definizione delle interfacce tra i sistemi. Quindi abbiamo definito dei protocolli standard di comunicazione tra i sistemi. Ritornando un attimo all'open source, come si innesta quindi la collaborazione con Red Hat? La collaborazione con Red Hat in CDP in realtà parte da lontano, visto che abbiamo adottato Red Hat Linux nel 2004, la prima installazione, ora rappresenta circa il 50% dei sistemi operativi presenti in cassa depositi e prestiti. Da quest'anno abbiamo iniziato a espandere la collaborazione per quello che riguarda la parte middleware, e in futuro prevediamo di utilizzare anche magari soluzioni legate all'identity management, piuttosto stiamo valutando anche le loro soluzioni cloud. Quali prossimi passi che vi vedono appunto, che vedono questo progetto evolvere? Allora, ci stiamo concentrando in questo momento su tutte le tematiche legate al DevOps, quindi continuous delivery, continuous deployment, quindi proprio tutto legato molto al time to market. Stiamo valutando in questo momento soluzioni che ci permettano di portare velocemente il workload in produzione, tra cui la containerizzazione, quindi Docker fondamentalmente, e tutti i sistemi per orchestrare i Docker. Infine, quali sono gli spunti che vi arrivano dall'utilizzo dell'open source? Allora, intanto l'adozione dell'open source ha necessità di essere fortemente supportata dal top management, ci devono credere non solo i tecnici, ma anche il business e i manager, in primis. Mediamente, quello che abbiamo imparato è che agli sviluppatori piace, però vanno accompagnati nel cambiamento, vanno definite delle regole, vanno definiti degli standard. Questo, se vuoi, sono le cose principali che ho imparato negli ultimi anni, utilizzando questo tipo di tecnologia. Grazie a tutti.